È chiaro che la gara 5 da un punto di vista tecnico è assolutamente impronosticabile e invece ci troviamo a discutere del fatto che nella migliore delle ipotesi giocheremo la finale per poter tornare in A1 contro la Virtus, cioè una partita epocale per importanza tecnica e mediatica in campo neutro e che nella peggiore delle ipotesi giocheremo le prime due partite dell'anno prossimo in A2 in campo neutro. Ci sono tre eroi che sono andati a colpire alle spalle tre giocatori di Trieste e sul campo di Palacanesto i giocatori sono sacri che vestano la male della Fortitudo, che vestano la male di Trieste e la male di qualsiasi altro. Sacri! Credo che da un punto di vista tecnico degli aggiustamenti si possano fare, noi li abbiamo fatti, li avrà fatti sicuramente anche Trieste. E' chiaro che l'aspetto emozionale e la capacità di resistere e di produrre una prestazione cestisticamente importante in un clima che sarà molto caldo sarà altrettanto importante. Sarà caldo per entrambe le squadre nel senso che se noi abbiamo già perso una finale l'anno scorso in gara 5 venendo travolti nei primi 5 minuti, trovandoci dopo aver speso il secondo time out sul 18-5, però era la prima finale che Candy e Montano giocavano, tanto per fare un nome, e furono due fra i peggiori di quella partita. Allora mi viene di pensare che siccome molti mi dicono che le finali per vincere bisogna prima perderle, io credo che qualora noi dimostrassimo una maturità diversa rispetto a quella dimostrata l'anno scorso, alla luce del fatto che se è giusto e logico che Trieste pensi che abbiamo dominato per 37 minuti, è altrettanto giusto e logico che noi si pensi che nonostante ci siamo stati dominati per 37 minuti la partita abbiamo vinto a noi.